Ramanaro Ashibur, adesso questa è aperta H24 Questo ramen è enorme, nemmeno il piatto che hanno usato è una cosa enorme Buono, delicatissimo Buon appetito il locale è questo e credo un po' intorno a meno di 5 minuti alla stazione di Shibuya signori il buco sono dentro un internet caffè a Shibuya queste qua sono in una stanza con computer, televisione, tutto quanto ho scelto di fare 8 ore e le esperienze non ho notato niente l'ultima volta ho fatto un'esperienza di Giappone, il mio primo viaggio in Giappone quindi come vi spiego, sta poco distante dalla stazione di Shibuya se dovete fare una cosa come la mia che non sapete dove vi volete fermare che può essere Shibuya, che può essere Shibuya, che può essere un'altra zona voi siete in giro e non vi va di fare 18.000 spatte avanti e dietro a un paio di ore, un posto del genere, non è la buttea idea come un capsule hotel, è la stessa cosa, molti Giapponesi utilizzano questo come per abbattere i costi comunque del taxi per tornare a casa, ho fatto serata, mi faccio un paio di ore qua questo è attrezzato pure con la doccia e poi mi prendo il primo treno alle 5 e mezza e mi torno a casa questo che fanno molti Giapponesi la cosa più assurda che alcuni vivono qua è che hanno un lavoro che non gli dà la possibilità di prendere una casa in affitto chi c'è tipo un part time, un'agenzia ti rispinge, non ti dà una casa in affitto perché non si sa se tu entro un mese o due mesi potresti anche non avere più quel lavoro invece noi qua ci sono delle offerte speciali per tipo 12 ore ci sono degli accorti che si possono fare con il proprietario c'è gente che proprio vive qua dentro ci fa due calcoli, io ci lavoro tutto tutto mi blocco 5 ore, 6 ore, 8 ore a notte vengo a dormire qua con lui e poi vado a lavorare, l'auto isolato ci vado a lavorare è una vita del merda ci sono alcuni che raga che fanno questo roso qua questa è una cosa figlia se uno vuole ingannare riposare un paio di ore senza dover andare in un hotel ci ho capito bene ci sta il drink olio che te spacchi tutto quindi voglio andare a vedere cosa c'è un'altra cosa quando vi registrate qua vi fanno una carta costa 300 yen in più e dovete inserire i dati vostri vedete un documento, dovete inserire il nome e cognome e indirizzo mettete, non so se farò nel hotel, eccola è giusto per creare la carta è un regolamento, è una cosa direi regola però io ho pagato, io lo credo di 8 ore più quello andrò a dormire 4.000 yen non è la cifra esagerata ma è stato un po' più tranquillo l'altro l'ho fatto anche perchè non volevo cacciare lo sfizio da tanti anni che non facevo l'esperienza del genere perchè no? poco senza finestra qualcuno di voi vuole leggere un manga questi posti sono sempre pieni di manga vieni, vieni, vieni ogni porta è una stanza c'è anche l'aria fumatore buongiorno buongiorno il problema più grosso in giappone è se è alto io sono stopo il mento ci sto giusto giusto e il giapponese è bello largo e poi il mento comunque è morbido è una massa maderasso solo che io ci sto giusto giusto da questa stanza è giusto una macchinuccia a questa parte non mi sono dimenticato ma niente presente che pagate la vostra stanza si chiamava così la doccia è 850 yen per utilizzare la doccia però come ho detto prima va tutto in base a se non avete piani precisi su dove andare a dormire potete anche trovare un capsule hotel che sono comunque disponibili anche a 24 e adesso voglio andare all'osservatorio nuovo ma apre alle 10 quindi andiamo a fare colazione faccio due giri e poi vado là